In una lettera scritta, in data novembre del 1922, alle sorelle Campanile e due suoi figli spirituali, Padre Pio scrive le seguenti parole. Una voce mesta ma dolcissima faceva eco nel povero mio cuore. Era l'avviso del padre amoroso, che delineava alla mente del figlio suo i pericoli che incontrato avrebbe nella lotta della vita. Era la voce del padre Benigno, che voleva staccato il cuore del figlio da quelli amore infantili, innocenti. Era la voce del padre amoroso, che sussurrava alle orecchie e al cuore del figlio di staccarsi del tutto dalla creta, dal fango, e gelosamente consacrarsi interamente a lui. Ardentemente, con sospiri amorosi, con gemiti inenarrabili, con parole dolci e soavi, lo chiamava a sé, voleva farlo tutto suo. Di più, geloso quasi del figlio, permetteva spesso che la creatura, figlia della terra e del fango, tirasse calci, lanciasse pugni di ingratitudine al figlio amato da lui, con tanta tenerezza ed affetto. E quelli comprendesse quanto sia stato fallace e menzognero l'amore che innocentemente ed infantilmente dava alle creature. Io, il figlio ingrato, allora comprendevo tutto e chiaramente contemplavo il quadro terribile e spaventoso che nella sua infinita misericordia mi presentava. Quadro veramente spoetizzante che avrebbe fatto tremare e paventare le anime più provate. Nello scorgere io quelle brutture, quelle miserie, invocavo subito i santissimi nomi di Gesù e Maria, chiamando con ansia ardente il Buon Padre che venisse e mi aiuto. Ed ecco pronto alla mia chiamata. Mi si presentava e, vedendo elli che io mi sforzavo di allontanare da me il funesto quadro, pareva che sorridesse, pareva che mi invitasse ad un'altra vita. Mi faceva intendere che il porto sicuro, l'asilio di pace, per me era la schiera della milizia ecclesiastica. Grazie per aver ascoltato questo video e alla prossima.